Io non so con quale coraggio mi stia presentando qua per fare questo video, cioè che cosa dovrei dire? Siete incommentabili! Siete incommentabili! Io cosa dovrei dire? Le stesse cose che dico in ogni video? Le stesse cose col timbro così? Stesse cose così ragazzi? Stesse cose così? Cioè dovrei usare le stesse parole, le stesse aggettivi per descrivervi? Io ragazzi non mi è passata la voglia sinceramente Di vedervi, di andare allo stadio perché non sono neanche andato oggi e ho fatto bene perché 12 euro Così ve li do 12 euro, così ve li do, ve li do esattamente così Perché 12 euro per vedere uno scempio del genere non li spendo Perché 12 euro ho 18 anni, ho altre passioni oltre il calcio Posso spendere tranquillamente in altro, va bene? Che sono comunque soldi spesi meglio naturalmente Perché 12 euro per avere uno scempio del genere Cioè ma neanche la Juniores che alleno io gioca così Anzi giochiamo molto bene Giochiamo molto bene E prima Prima di iniziare a parlare della partita Faccio uno sforzo enorme Ma ci proviamo Faccio i complimenti ai tifosi del Venezia Così vi levate dalle palle Così proprio ve ne andate perché vi ho dato il contentino Vi ho leccato il culo per bene Adesso potete andarvene Avete fatto la vostra partita Avete giocato bene Potete anche andarvene No perché ogni volta Proprio con i tifosi del Bari 200 commenti dei tifosi del Bari Vi ho dato il contentino Potete anche andarvene perché Devo parlare del Cagliari Detto questo Detto questo Deve cambiare qualcosa Perché non è possibile che ogni volta Si faccia passare tutto Come se fosse normale Che perdiamo 4-1 in casa contro il Venezia Contro il Venezia Il Venezia Cioè rendetevi conto della squadra che ha il Venezia Eppure comunque giocano bene Rispetto a noi certo che giocano bene Ma tutti giocherebbero bene rispetto a noi Il Bari ha giocato bene Vabbè il Bari poi È una bella squadra in difesa Fa veramente pietà Però è una bella squadra in generale E soprattutto deve ringraziare il signore Che sta giocando con quel signore là in attacco Vale che dire Se ce l'avessimo avuto noi Che dire Sicuramente sarebbe stata Un'altra storia Non dal punto di vista del gioco Ma quantomeno dei gol Perché abbiamo due problemi Principali Il terzino destro Che inesistente Sono due inesistenti Abbiamo due giocatori rosa Che se metti a fare Pavoletti terzino destro Te lo sa fare meglio Te lo sa fare meglio Perché tanto in attacco Pavoletti È un morto vivente Quindi se lo metti a fare il terzino destro Almeno Migliora lui E migliora anche la squadra Perché a destra Siamo ridotti malissimo Zappa Che fa un errore Sull'altro Cioè beh Ma poi abbiamo Di Pardo Bel Bel Rimpiego Di Pardo A Zappa Che poi Zappa Devrebbe essere Rimpiego di Di Pardo Non si è capito più nulla Ma Io Fossi Leverani Farei il segno Della croce Una volta che metto la formazione Perché inserire questi due Inserire E scegliere Uno tra questi due È difficile Cioè Stai scegliendo Merda con più merda Chi scegli? Merda o Più merda? È veramente difficile Come scelta Cioè praticamente Stai scegliendo Se Perdere in un modo O perdere in un altro Dipende dalla giornata Dipende da come ti gira Vuoi perdere in un modo O perdere in un altro Ecco Affidati a Zappa E a Di Pardo Poi Sul fatto degli attaccanti Anche lì ragazzi Cioè stai scegliendo Tra merda e più merda Pavoletti e Lapadula Sono merda e più merda Ma che Andrebbero anche Lapadula Non Pavoletti Lapadula Andrebbe anche bene In un'altra squadra Se giochi Solo cross Solo cross Solo cross Ma poi il Cagliari Che cerca sempre Quella giocata Sempre Gaston Pereiro Il gatto Gaston Gaston Pereiro Che aveva La possibilità Di passarla direttamente Al giocatore Che si stava inserendo In area di rigore E invece la passa Comunque all'esterno Ma perché È sempre la solita storia Sempre la solita storia Volete sempre giocare così Di merda Perché poi È un gioco di merda Che però Ti funziona bene Ed è una gioia Vederlo Agli occhi Sei un attaccante decente Ma se Hai Lapadula Che alto un metro È una È una noce di cocco Se alto un metro È una noce di cocco Lapadula Ma come pretendi Di giocare Con un modulo Con un gioco del genere Ma Idem Pavoletti Ma Pavoletti Proprio Sì dato Cioè per terra Pavoletti Avete presente I chiodini Che mettevano Michael Jackson Per fare quel Quello Che tipo Cadeva in avanti E ne riusciva a cadere Perché aveva i chiodini Nei piedi Pavoletti ha quelli Pavoletti Non riesce a correre Pavoletti È come Michael Jackson Ok Pavoletti è come Michael Jackson Non riesce A muoversi Ai piedi Si dati lì E non riesce Né a fare un passaggio Né a fare uno stop Né a controllarla Non fa nulla Ma Pavoletti Non sa giocare a calcio Pavoletti Non sa giocare a calcio Ma fatelo giocare a basket Come Palazzo In Serie D Fatelo giocare con Palazzo In Serie D Di basket Ma Pavoletti Non sa Stoppare un pallone Non sa fare niente Spiegatemi L'utilità di Pavoletti Salutare i tifosi Che è sempre così Ma fatene a cagare Pensa a giocare Anzi no Pensa ad andartene Più che pensa a giocare Perché arrivati a questo punto Mi sono stancato pure di Continuare 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 Ad aspettarti E poi vabbè Il gioco ragazzi Il gioco Proprio tocco di classe Il gioco Sempre la solita cosa Del cross Che il pallone Buttato a cazzo Di cane Ma non interessa Il giocatore del Cagliari Se c'è un giocatore In mezzo Se ce ne sono due Se ce ne sono tre Se non ce n'è nessuno Soprattutto non ce n'è nessuno Perché non c'è mai nessuno In area di rigore Nonostante sappiamo Noi tifosi Figuriamoci giocatori Lo sanno Che giochiamo Solo con i cross Nessuno è mai In area di rigore Neanche la prima punta È mai in quella cazzo Di area di rigore Cioè Nandez Zappa Barreca Poi vabbè Lasciamo perdere Giochiamo nel 2022 Ancora con Con Antonio Barreca Io Mi viene voglia Di Di prendere La scolorina E mettermela Conficata Qua Nell'occhio Che facciamo giocare Ancora Barreca Ma a me ragazzi Viene da piangere Viene proprio da Deprimermi Io ragazzi Questa Arrivati a questo punto Non lo voglio dire Ma Continuando di questo passo Preferisco Vedermi Il Fenerbahce Di Gio Pedro Piuttosto che Vedermi il Cagliari Ok Perché per carità Sono tifoso E tutto La squadra La seguirò Sempre comunque Ma fino a un certo punto Io allo stadio Sopendere 12 euro Per uno scempio del genere Anche meno Anche meno Per vedere Per leccare il culo Alle altre squadre È lasciarli E lasciarli campo libero Poi Parliamo Delle eroie dei singoli Altare Perché bisogna parlarne Io sono un grande Stimatore di Altare Come tutti noi Siamo un grande Stimatore di Altare Ma come le cazzate Le fa Goldaniga Contro il Bari Le cazzate Se le fa Altare Contro il Venezia Bisogna Evidenziarle Altare ha fatto Una gradissima Cazzata Nel Nel gol Del Del Venezia Se non sbaglio Nel terzo gol Bisogna evidenziarlo Perché come sbaglia Goldaniga Sbaglia anche Altare Naturalmente Naturalmente Questo è Il primo Forse errore Delle tante Partite impeccabili Di Altare Ma bisogna Evidenziarlo Perché comunque Io Se c'è da criticare L'Iniesta Di Sangavino Lo sapete Che io L'ho criticato Pur essendo Il massimo Estimatore Dell'Iniesta Se c'è da criticare L'Iniesta L'ho sempre criticato Fino a prova contraria Però È un discorso Proprio Oltre Zappa E Altare E anche Radunovic È come avere È come avere Questa bottiglietta Questo è Boris Radunovic Come avere Questa bottiglietta In porta Che se la tirano addosso La respingi Altrimenti Altrimenti Segnano tranquillamente Se possono segnare Tranquillamente Come un muro Che la respingi Però Il muro Te la ripassa Questo è Boris Radunovic Questo è Boris Radunovic Perché adesso basta Perché adesso Bisogna dare le colpe Anche a Radunovic A parte Radunovic Altare E Zappa Stavo dicendo Preferisco parlare Anche più in generale Della squadra Sono veramente Scandalosi Cioè Gioco inesistente Giocatori Morti Anche Mancoso Oltre la punizione Che ha fatto Non pensate Che Mancoso Abbia fatto Questa prestazione Eclatante Mancoso Ha sbagliato E anche tanto E Mancoso Andava tolto Forse tra i tre In attacco Era meglio Gaston Pereiro Era meglio Tenere Gaston Pereiro Invece no Mancoso Perché ha segnato Ma Mancoso A parte il gol Ha fatto una prestazione Da quattro Da quattro Per essere buoni E adesso basta Mi sono stancato E ora E ora di agire Di esonerare Liberani Di togliere Dalle palle Giulini E tutti i giocatori Marci che ci sono Grazie a tutti